In questi giorni ci sono state altre adesioni al progetto che vede il Monte Cervati quale grande attrattore naturalistico della Campania. Gli ultimi comuni in ordine di tempo ad aderire sono stati Buonabitacolo a Monte San Giacomo. Di recente, su spinta del sindaco di Sanza Vittorio Esposito e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha proposto tale progetto di sviluppo turistico dell'area. Un progetto con una visione complessiva del territorio che punta sul rilancio delle aree interne, quelle che orbitano ai piedi della vetta più alta della Campania, mettendo al centro un concetto nuovo di turismo sostenibile che crea una relazione diretta tra il borgo albergo e l'agricoltura biodinamica. Il progetto coinvolge 10 comuni, Buonabitacolo, Laurino, Monte San Giacomo, Piaggini, Rufrano, Sacco, Sanza, Sassano, Teggiano, Valle dell'Angelo. Il protocollo che adesso i vari comuni dell'area stanno sottoscrivendo, finalizzato a far riconoscere il Monte Cervati come grande attrattore naturalistico della Campania, sarà inoltrato alla regione che potrà poi attivare un percorso di promozione e fruizione dell'area, nonché di tutela e valorizzazione integrata delle risorse del territorio. Una grande opportunità di visibilità per l'intero comprensorio, quindi un proposito di tutto rispetto. Va detto che il Monte Cervati negli anni passati è già stato oggetto di proposte e idee per una sua valorizzazione in chiave turistica. Non ci sono mai stati riscontri concreti. Qualche mese fa però il governatore Vincenzo De Luca da Padula ha dichiarato che la regione ora punta tutto sul grande attrattore naturalistico della campagna che è il Monte Cervati. Ha ridato quindi slancio all'iniziativa. Va considerato però che lo stesso governatore che da polla a parole sosteneva Luigi Curto e con i fatti aveva decretato la chiusura del punto nascite.